Parla africano il colpo di mercato messo a segno dalla Nissa, che ha tesserato il centrocampista Willy Kwame, 24 anni, originario della Costa d'Avorio. Il direttore sportivo biancoscudato Massimo Ferraro è riuscito a chiudere rapidamente la trattativa, superando la concorrenza di altre società di Serie D ed eccellenza. Kwame arriva con un invidiabile bagaglio di esperienza, nonostante la giovane età. Proprio a San Cataldo Kwame ha avuto modo di mettersi in luce sotto la guida di Alessandro Settineri, passato adesso alla guida della Nissa, vincendo il campionato di eccellenza. Kwame promette di essere un autentico dominatore del centrocampo e chi lo conosce ne ha esaltato umiltà e spirito di sacrificio. Il coraggio e la voglia di fare bene non gli mancano. Nelle sue prime ore da biancoscudato ha ricordato il vecchio proverbio africano che recita, quando le radici sono profonde non c'è motivo di temere il vento.